Grande successo per la cerimonia alle fonti Day & Night tenutasi lo scorso giovedì 8 novembre a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana. La mattinata, introdotta da un keynote speech del noto giornalista e scrittore Alan Friedman, ha visto lo svolgersi di tre tavole rotonde dove esperti del settore si sono confrontati riguardo alle sfide delle Char Manager 4.0, l'evoluzione del lavoro nel terzo millennio, il Jobs Act e il Decreto Dignità. La sera ad aprire la cerimonia di premiazione è stato il CEO Summit dal titolo Innovazione e Leadership, come competere in un mondo che cambia. Il dibattito moderato dalla giornalista Deborah Rosciani ha coinvolto esperti che hanno disquisito sulle principali tematiche del settore e le sfide che questo sarà chiamato ad affrontare. Eccellenza dell'anno, fast growing energie rinnovabili, il premio viene assegnato a PLT Energia. Per essere anch'essa un'eccellenza che ha fatto dell'innovazione e della sostenibilità sociale ed ambientale, finanziaria ed economica i propri driver di crescita. Per essersi imposta nel settore delle energie rinnovabili come leader e interlocutore di fiducia in grado di contribuire a disegnare il futuro delle comunità in cui opera. Eccellenza dell'anno, fast growing energie rinnovabili. Complimenti, bravissimi. Siamo in compagnia di Pierluigi Tortora, amministratore delegato di PLT Energia. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera e grazie. PLT Energia si è giudicata alle fonti awards 2018 come eccellenza dell'anno, fast growing energie rinnovabili. Come commenta questa vittoria? Innanzitutto un ringraziamento alla giuria che ha posto attenzione anche alle imprese cosiddette non big players nel settore. Quindi una sensibilità particolare a delle imprese che costituiscono il tessuto produttivo vitale sia nei territori locali che nel sistema paese. Quindi siamo molto orgogliosi e fieri di questo riconoscimento che corona un periodo di crescita importante. Una strategia posta già nel 2014 con la quotazione in borsa di Piretti Energia, susseguita poi da un piano di investimenti che puntava a incrementare la massa critica in un settore come poi vedremo dove la concentrazione è in atto tra i player. Quindi questo premio arriva a un momento per noi considerato non di arrivo ma di partenza, avendo raggiunto certe dimensioni. Siamo oggi il settimo operatore italiano nel settore eolico. e dal 2018 possiamo contare su un margine operativo lordo importante che ci fa guardare il futuro con estrema fiducia. Ovviamente è un riconoscimento e un ringraziamento che va a tutto il gruppo, a partire dal consiglio di amministrazione, da tutti i collaboratori che in questi anni con competenza, professionalità e anche direi senso di abnegazione al raggiungimento degli obiettivi che credo poi siano stasera il frutto e il coronamento del premio ricevuto. Ecco, la vostra realtà punta infatti molto sulla sostenibilità oltre che ambientale e anche finanziaria. Ci può raccontare il vostro modello di business? Certamente, è un settore, quello delle energie rinnovabili, noi siamo focalizzati molto sulla fonte eolica ma anche sul fotovoltaico e il biogas. Diciamo che è un settore cosiddetto capital intensive, quindi la parte ambientale, ovviamente la vocazione ambientale, nel nostro caso, io che sono il fondatore del gruppo, già da laurea in ingegneria, feci la tesi sull'energia solare attiva e passiva nel lontano 1981, quindi la vocazione ambientale ovviamente è nel nostro DNA. Il settore, dicevo, a capital intensive, quindi è molto importante la struttura finanziaria, cioè tutti gli impianti che realizziamo devono essere supportati da finanze strutturate, i cosiddetti project financing e quindi l'indebitamento, diciamo, si regge sulla bontà dei progetti che uno rappresenta. Questo però non bisogna tralasciare anche la parte legata ai mesi propri, quindi all'equity, quindi bisogna attuare delle strategie sul capitale, quindi abbiamo aperto il mercato dei capitali nel 2014, quotandoci in borsa italiana sul segmento AIM e abbiamo anche portato avanti delle joint venture con dei partner industriali importanti. Questo ha consentito di sostenere un piano di investimenti nell'ultimo quinquennio di circa 300 milioni di euro. Quindi il modello della sostenibilità finanziaria è un aspetto importante e delicato. Il modello di business chiaramente è un modello integrato, cioè dalla progettazione alla costruzione alla gestione degli impianti, fino alla vendita di energia elettrica al cliente finale. Dicevo, nel 2018, a completamento del piano industriale, del secondo piano industriale, abbiamo poche settimane fa, il 23 ottobre, concluso un'operazione di finanziamento ibrido di 162 milioni di euro e questo ha consentito di ribilanciare la posizione finanziaria, nel senso che è un finanziamento ibrido e quindi abbiamo sottoscritto un investimento obbligazionario, un bond, da 60 milioni e circa 100 milioni di loan, andando a distinguere project financing fatti perfezionati negli ultimi due anni e abbiamo anche liberato risorse per ulteriore sviluppo. Quindi gli investitori, pur essendo negli ultimi mesi un mercato molto nervoso, quello dei capitali, quindi dovuti anche alla crescita dello spread, però il modello di business, la bontà dei progetti, è stata premiata perché abbiamo concluso un'operazione anche con un pricing a livelli, direi, dei migliori livelli europei per un'operazione di questi tempi e quindi anche gli investitori istituzionali e internazionali hanno creduto nella bontà del progetto e del modello di business. Bene, le chiedo infine quali sono le prossime sfide del settore e quali sono gli obiettivi che vi proponete di conseguire. Dunque, nel settore energetico in genere nel 2017 è stata approvata la nuova strategia energetica nazionale che punta molto sulla crescita delle energie rinnovabili. È una strategia energetica nazionale che lascia ben sperare, fino al 2030 sono stati fissati ulteriori obiettivi, l'Italia ha raggiunto gli obiettivi che si era posta al 2020 con tre anni di anticipo, avendo raggiunto una penetrazione di energie rinnovabili intorno al 17% già nel 2015 e gli obiettivi posti sfidanti al 2030 lasciano spazio perché ci deve essere, come si dice, una strategia energetica che consente una maggior competitività e quindi una riduzione del gap del costo dell'energia elettrica tra l'Italia e il resto dell'Europa. Un sistema ovviamente ambientale, quindi con le linee guida che sono state anche finalizzate alla COP21 di Parigi e poi un sistema sicuro in termini di approvvigionamento energetico. In questo quadro l'energia rinnovabile punterà molto nei prossimi anni al 30% e quindi con una distribuzione del 55% sul mercato elettrico, il 21% sul trasporto urbano e il 32% sugli usi termici. Si punterà molto sulle energie rinnovabili mature, l'eolico e il fotovoltaico e quindi è previsto, è stimato un raddoppio della potenza installata dal 2018 al 2030, dai 9 GW attuali ai 18 GW al 2030. Quindi per noi che siamo integrati verticalmente, quindi progettiamo, costruiamo e gestiamo gli impianti, è una sfida che ci aspetta nei prossimi anni, vogliamo crescere in termini di capacità produttiva e quindi posizionarci in un settore che si sta concentrando tra i migliori player di dimensioni che consentono anche di efficientare la struttura dei costi. La vendita dell'energia elettrica al cliente finale trova un traguardo molto importante a luglio del 2020 dove si liberalizza il mercato delle energie e quindi tutti i clienti, famiglie, domestici, piccole partite IVA dovranno scegliere un fornitore sul mercato libero. Quindi la nostra società di vendita sta crescendo molto bene su un messaggio di green, energia rinnovabile, quindi penso che la convergenza di questo modello di business al 2023-2025 possa dare i migliori risultati.